Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli il 26 febbraio scorso i tamponi effettuati sono stati 107.991 più 2.974 rispetto alle ultime 24 ore su 96.860 persone. Di queste sono risultate positive 3.354 più 11 mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 persone. 1.203 sono le persone guarite con un aumento di 32 unità e 262 le persone decedute più uno rispetto all'altro ieri. Degli attuali 1.889 positivi 225 pazienti sono ricovenati. Ieri sono guariti 24 di cui 13 in terapia intensiva che ha liberato due posti mentre 1.664 più 2 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 63, nessun ricoverato, 77 guariti e un deceduto, Caltani 7, 78, Catania 679, Enna 225, Messina 353, Palermo 378, Ragusa 37, Siracusa 54, Trapani 22. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presenza della regione siciliana che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.